su facebook e lo mettiamo all'amico un po' di più Per non fare gli indeggiamenti, metri, metri, delle gomme, queste, diciamo, delle gomme alti velocitari, queste qua che avevo sotto, no, però gli originali portano già i gommi con un coce vu, non così altra, sono loro, invece, perché è una macchina, perché non lo andiamo a prestagionare, la sua, 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 la sua. Ciao, è di mio padre la macchina, mi piace. Complimenti, bellissima. Originale, cioè così Eva, così Eva. E a Giulia, sembra Giulia, insomma. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.